mamma rogarmene ecco io ah oi oscar oi ma che sta succedendo? la casa dove mi parla n'esca voi pompeso non sta succedendo a casa Aldo Aldo mi fa pensare non mi fa pensare tu ti ricordi a Peppo compagno nostro e come no? chi l'è venuto a morire dalla casa mia è venuto a morire ma tu che dici? hai capito cosa ha fatto? che la macchina è sciuliata e che ha fatto bu 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 e gli ho rinunciato la casa mi ha distrutto la cancella nuova nuova ma donna che brutta fine che ha fatto no no ma quello non è morto ah no? no no perché gli ho rinunciato e mi ha distrutto la cancella con tutto il sangue che lo scurreva è traslato e sciuliato gli ho rinunciato e la capi intanto tra le cucine tutto viene trappazzato per tutto parte un cristallo costato 11 mila euro che fine terribile che ha fatto no no tu quello non è morto ah no? e come è morto? non può cancellare non può l'assi si disse giustamente se voleva rifriscare vuole metteremo l'aria l'aria fredda non l'aria come si fa? l'acqua l'acqua fredda si è appeso vicino al scaldabagno ha stracciato il scaldabagno se ne sono cadute credenze credenze e la corrente ha pagato la maronna scossa maronna con pazienza elettrica è morta no a tu non è morta così ma si può sapere come caccia è morta chissà a tu l'hai già avuta a sparare e non mi scherziate ma stiamo distruggendo tutta la casa è morta